Due paroline, due velocissime. Ed eccoci con Roberta Capua. Visto che siamo qui agli studi di Fabrizio Frizzi, oggi lo sai che avrebbe fatto 65 anni? Lo sapevi già? Sì. Mi vuoi dare un piccolo ricordo di lui? Una persona straordinaria. Io non posso pensare che non ci sia più. Per me è come se ci fosse, come se fosse in vacanza. Hai lavorato con lui? Certo. Anche io ho lavorato spesso. Ho lavorato con lui, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto tanta beneficenza insieme. Era una persona molto sensibile, molto generosa, ma insomma lo sappiamo. Sì, io ho fatto un'intera stagione a Scommettiamo Che con lui e la Gattucci, quindi l'ho conosciuto anch'io. Una persona speciale che ci manca ogni giorno, manca a noi che lo conoscevamo, insomma per motivi professionali, ma manca anche al pubblico credo. Sì, tantissimo. Grazie Roberta, è stato un piacere. Grazie mille. E buon lavoro. Grazie.